Siamo già in una trentina per il primo webinar per l'ecosistema italiano, penso sia un ottimo risultato. Allora, buon pomeriggio a tutti, penso possa iniziare, già sono le tre e quasi tre minuti. Per chi non mi conosce, sono Giuseppe Giorlando, sono il partner manager di BigCommerce Italia, quindi il mio obiettivo è quello di sviluppare l'ecosistema sia di agenzia sia di sistema integrator nel mercato italiano. Con noi c'è anche James Lee, James Lee penso sia una figura abbastanza unica nell'ecosistema di venditori tecnologia, infatti il suo role è un partner solution engineer, quindi è un solution engineer infatti, ma che si dedica il tuo tempo a supportare voi, quindi supportare i nostri partner, supportare le nostre agenzie. Per James diamo un buongiorno perché lui si connette direttamente da Austin, Texas, dove sapete il nostro headquarter americano. Penso siano intorno alle otto di mattina, quindi good morning James. Sta ancora imparando l'italiano, quindi siamo buoni con lui e parliamo lentamente. Quindi l'agenda che vi propongo oggi è anzitutto introduzione alla nostra edizione B2B. Poi passerò la parola a James Lee per una demo tecnica, vedremo il back-end e anche qualche store fatti con la nostra edizione B2B. Poi ci dedicheremo una quindicina di minuti per botte e risposta, quindi question and answer. Se avete qualsiasi domanda scrivete pure in chat e alla fine nella sessione comunque li leggeremo uno a uno e cercheremo di rispondervi. Abbiamo un'ora di tempo, anzi anche ora un poco meno, ma penso possa iniziare. Allora, innanzitutto voglio scrivervi qual è l'opportunità del B2B, dell'e-commerce B2B. Tutti lo sapete, tutti siete qua oggi per questo, ma devo darvi un po' di numeri. Secondo un nono report di IDC, per il momento siamo a quasi 1,6 miliardi di MRR, quindi monthly recurrent revenue nel mercato globale. Questo è circa al momento il 29% dell'intero market dell'e-commerce, quindi il B2C più il B2B. Ma sì, siccome si progetta, si prevede che entro cinque anni sarà all'intorno del 40% e del 50%. Quindi capita bene quanto sia le possibilità che abbiamo davanti a noi nel B2B. E soprattutto in Italia che è stata, come sapete, uno dei mercati più colpiti dal Covid. Il B2B ha avuto diverse difficoltà e oggi ci stiamo tutti un po' rialzando per rimettere l'economia in piedi nuovo. E in Europa, quindi, è circa il 24% sarà il nostro, il mercato globale, che comunque è un grande numero. Oltre comunque il, diciamo, i numeri, le statistiche di quanto è il mercato, c'è anche alcuni elementi che ci portano comunque a vedere un aumento dell'e-commerce B2B. Infatti, soprattutto il comportamento dei buyers. Oggigiorno, diciamo, il 75% dei buyer preferisce comprare online piuttosto che un commerciale. Infatti, anche parlando di che molti miei, diciamo, amici trovano invasiva una chiamata di un commerciale per una vendita B2B e preferiscono fare tutto attraverso l'e-commerce. Oggigiorno, un quarto dei B2B buyers completa almeno il 50% delle transazioni B2B online. La stessa persona che comunque la sera prima ha acquistato su Amazon nella sua vita privata si aspetta che nel giorno lavorativo successivo possa avere la stessa customer experience nei propri acquisti B2B. Infatti, diciamo, comunque, oggigiorno i merchant devono fornire un'esperienza B2C-like, un'esperienza simile al B2C, attraverso i loro negozi B2B. Quindi avere immagini HD, avere comunque i negozi molto belli e una customer experience molto fluida. Infatti, stiamo vedendo, diciamo, una nuova era, no? Una nuova era soprattutto perché i buyers B2B adesso, oggigiorno, sono tutti quelli da generazione Z. Quindi, gente, diciamo, manager che sono attivi digitali e che preferiscono acquistare online piuttosto che avere relazioni con i classici, insomma, scene di lavoro, oppure eventi, conferenze, perciò fare tutto online, dall'informazione fino all'acquisto online. Infatti, necessite comunque una customer experience B2B che sia più semplice e fluida possibile. E la nuova era anche perché ormai penso siamo tutti un po' stanchi, tutte quelle piattaforme monolitiche che non offre la customizzazione e la scalabilità adatta per, diciamo, per garantire tutte le necessità uniche e i requirement dei vostri clienti. E inoltre, inoltre, sono molto più severi rispetto a quelle aziende e venditori B2B che non offrono, che non offrono una B2C experience anche a loro. Quindi la nuova era, quindi la capacità di fornire un'esperienza B2C è ormai imperativo per avere successo nel mercato, sopravvivere e integrarsi. Quindi vedremo come e-commerce può aiutarvi in questo viaggio, in questo viaggio verso il successo dei vostri clienti B2B. Infatti, non siate visto, pensate, visto la press release che abbiamo lanciato, veramente da pochi mesi, la nostra B2B edition che sta avendo un successo, diciamo, grandioso. La maggior parte della nostra pipeline nel momento è B2B e abbiamo una win rate del 70% commercialmente. È giusto darvi un'idea quanto sia, diciamo, forza la nostra soluzione e quanto i nostri clienti ci scelgono anche contro altre soluzioni più monolitiche, soluzioni un po' più vecchie, soluzioni legacy. Allora, B2B, anche c'è e-commerce, anche prima della nostra edizione B2B, aveva alcune funzionalità native adatte proprio per i merchant B2B, come dalle price list al customer group, agli ordini comunque draft, quindi alle bozze di ordini, alle promozioni. Anzi, abbiamo lanciato anche da pochi mesi il nostro nuovo engine di promozionale. Quindi, per chi vuoi ha un sandbox, vi consiglio di provare il nuovo engine e se non l'avete, contattatemi che vi farò avere il vostro sandbox per partner. La ricerca è comunque facettata e quindi comunque cercare, avere un'esperienza di ricerca molto più favorevole. Come sappiamo nel B2B ci sono veramente prodotti con tantissime varianti, con tantissime SKU, è una ricerca comunque come si deve, necessaria per la customer experience. Inoltre, abbiamo anche il login ristretto, no? Sappiamo che molti i clienti B2B sono molto sensibili al prezzo mostrato, non vogliono rendere comunque i propri prezzi pubblici, perché comunque c'è poca marginabilità, e per fare dei prezzi prodotti soltanto ai clienti fidati. E B2B, comunque già nativamente di default, può garantire tutte queste feature. Non ci bastava questo, ma infatti qualche mese fa abbiamo lanciato la B2B, la B2B B2B Edition. Ma in poche parole cos'è? Abbiamo fatto una partnership nativa, un'integrazione nativa con dei leader di mercato del B2B, da tecnologia e-commerce B2B, che è Bundle B2B. In questo modo offriamo un unico pacchetto al cliente che contiene la soluzione di B2B, come vedremo, più B2B, Bundle B2B integrato. Inoltre, tutto questo include più di sei temi ottimizzati per il B2B, un solo contratto, quindi anche se abbiamo due, diciamo, due prodotti, no? B2B, Bundle B2B, il cliente sempre comunque negozierà, comunque avrà la relazione con B2B, però avendo sempre questi due prodotti assieme. non solo esperienze di servizi, quindi sarà sempre la, diciamo, il B-commerce, che siamo molto conosci per il nostro customer service, il nostro customer success, a prendersi cura di tutto il contratto. Inoltre, avrà tantissime apps, temi preinstallati, giusto pronti all'uso. Qui potete vedere questa nostra nuova partnership nativa, quindi la nostra B2B Edition come un puzzle, no? Alla sinistra avete comunque il B-commerce, no? Quindi, sapete, comunque, i valori B-commerce, sempre la scalabilità, l'agilità. Siamo un open SaaS, quindi abbiamo più di 400 chiamate API al secondo. 93% del nostro prodotto è aperto tramite API ed è esposto per, diciamo, integrazioni, per il lavoro della nostra agenzia, per una customizzazione, diciamo, quasi al 100%. Inoltre, siamo ibridi, no? I clienti abbiamo sia B2B, sia B2C in un'unica piattaforma. Siamo un esempio molto noto, è lo hacker, che con noi sia il B2B, sia il B2C. Con questo l'abbiamo connesso con Bundle B2B, che infatti è una delle tecnologie, tecnologie leader in mercato per l'e-commerce B2B. Oltre a questo, niente, non vi dimenticate che B-commerce ha sempre la tecnologia best of breed, no? Quindi abbiamo sempre le integrazioni native con le app, con le tecnologie più famose nell'industria B2B. Inoltre abbiamo, e se non lo pensassi, avendo API quasi limitati, avendo un quei, se non lo pensassi, integrabili con gli applicativi critici di ogni vostro cliente del B2B. Un esempio normale agli RP. Quindi, con la nostra partnership con B2B Bank, si sono aggiunte ulteriori funzioni native. Un esempio è il corporate account management, quindi la possibilità di gestire l'account del cliente del merchant B2B. Gestire diversi address, quindi diversi indirizzi, sia per la fatturazione, sia per la consegna. Avere un sales, quindi un commerciale mascherato, so dire il commerciale del vostro cliente si può mascherare per il cliente, vedere quali sono stati gli ultimi ordini, vedere quali sono state le ultime ricerche, creare anche shopping list o anche per esempio creare, piazzare un ordine nel caso il cliente lo richieda. Avere delle quoting, no? Dei preventivi delle quotazioni. Spesso nel B2B, come sappiamo, la transazione non finisce con carta di credito, con PayPal, con Stripe, ma avviene tramite bonifico, tramite un'altra soluzione di pagamento. In questo caso il commerciale del cliente più l'user finale, il cliente finale, possono scambiarsi quotazioni preventive, anche comunicare per venersi incontro e per negoziare. La shopping list condivisa, ovviamente possiamo vedere il cliente, l'user finale può creare shopping list e comunque puoi ricomprare quando lo chiede necessario. Il buy again, spesso in B2B ci sono, diciamo, gli acquisti sono ricorrenti, sono sempre gli stessi, quindi il cliente può facilmente ricomprare per la propria convenienza. I pagamenti visibili, no? Magari volete un cliente che vuole che paghi con PayPal, un altro cliente con Stripe, un altro cliente con bonifico tramite l'emissione di fattura. Puoi creare un diversimento di pagamento per un cliente singolo. Inoltre, nei casi che ci siano delle piattaforme ebili, quindi sia B2C, sia B2B in stessa piattaforma, BigCommerce vi permette anche di far richiedere ai clienti B2C di essere considerato un B2B, quindi mostrare che sia un B2B, quindi un commerciante, quindi avere tutti i scontisti, tutte le feature di un account B2B. Ovviamente abbiamo fatto un bel po' di rumors attraverso di Hype, attraverso la nostra nuova soluzione B2B. Siamo anche considerati dai migliori analisti nel mondo di e-commerce come una delle soluzioni leader del mercato. Da Forest Wave al Paragene B2B, che inoltre qualche settimana fa ha ricevuto 17 medaglie, è stato il primo vendor B2B a ricevere così tante medaglie nella storia del report. Anche dai DC Marketplace, Marketscapes, è considerati uno dei maggiori player del B2B. Inoltre, non si è visto la nuova matrice di Garner, siamo anche considerati uno dei maggiori challenger dell'industria. Quindi, per recapitolare l'efficio, la nostra edizione B2B, abbiamo i ruoli permessi, quindi i vostri clienti, come vedremo anche con James, possono settare gli amministratori dell'azienda, i senior buyer, i junior buyer, avere il commerciale mascherato, shopping list condivisi, gli storici ordini, anche il vostro commerciale potrà vedere gli storici ordini al cliente, il comprare di nuovo, il totale controllo dei metodi di pagamento, il case pack management, quindi anche dei quick order part per ordinare, i processi di approvazione di un acquisto, e anche la gestione di indirizzi. Vi ricordo anche sempre che nella nostra edizione B2B, avete sempre tutta la potenza di big commerce, quindi vedete, vi garantiamo sempre la nostra potenza, la nostra piattaforma, come sempre abbiamo 600 varianti, SKU più di 250 opzioni di prodotto, API illimitate per connettere i vostri applicativi, pricing list da andare a headless, che come sappiamo è il futuro dell'e-commerce, omni-channel, che sia di connettersi con diversi canali di acquisto, che siano Whatsapp, che siano Facebook, Instagram, Wish, al vado del vostro cliente, ovunque ha un canale, iDraft Order, un SSO, un multi-currency, e così via. Quindi siamo, come base, ad esempio, la nostra potenza dell'engine di big commerce. Vi faccio vedere un'altra, queste le architetture, come è composta la nostra B2B edition. Questa è la nostra big commerce enterprise, parte di out of the box, tutti i primi quadratini, della prima linea, quindi dal multicanale, alle promozioni, all'ordement management, fine ai report analytics, è tutto out of the box, con big commerce enterprise. Quindi con la licenza di big commerce, avrete i default, tutto questo. Il bundle B2B, qui la nostra integrazione attiva con bundle B2B, aggiunge alcune feature, come vedete, il portale di invoicing, i ruoli permessi, la gestione dell'account, dell'account del cliente, le quotazioni preventivi, e così via. Inoltre, appunti sia il frontend, abbiamo i nostri temi, come vi ho detto, fino a sei temi, ottimizzati nel B2B, inoltre è anche possibile andare ad address, quindi se volete, se volete giocare con l'address, magari avete, volete andare live con WordPress, con Dupral, con Sitecore, con Adobe Experience Management, non è un problema, siamo sempre agnostici, su quello che utilizzerete, dal punto di vista del frontend. tutto è sempre estendibile, tramite il REST API, quindi è possibile connettere gli RP, un MS, un PIM gestionale, o tant'altro, senza nessun problema, senza nessun problema, di scalabilità. Vi ricordo che abbiamo, fino a 400 API, chiamate API al secondo, mentre molti altri competi, arrivano nemmeno a 10. Inoltre vi ricordo che, tutta la nostra piattaforma, è sotto Google Cloud, quindi siamo stati a Google Cloud, abbiamo dei contratti comunque preferenziali, quindi un uptime, il 99,99% anche durante il Black Friday. Siamo anche disposti a fare delle SLA, quindi dei contratti specifici, che garantiamo questo tipo di uptime, di performance, e di performance per i vostri clienti. Non vi scordate sempre, che siamo una soluzione, quindi best of brief, no? Noi facciamo e-commerce, facciamo e-commerce, farà sempre solo quello, lo farà bene, e tutto il resto, lo facciamo fare ai nostri, alle migliori stack tecnologici, in circolazione. Con i nostri, c'è le nostre app, che sono più predisposte per il P2B, e sono tutte presenti, nel nostro marketplace. Come solito abbiamo, il marketplace, dove potete scaricare con un click, le varie applicazioni, e gestirle al nostro back-end. In totale per adesso, abbiamo più di 800 apps, più di 50 industrie e categorie, stiamo anche, facciamo molti sforzi, per raggiungere nuovi ERP, comunque per avere la soluzione migliore, B2B, più integrabile del mercato. Quindi saluto anche a qualsiasi consiglio, qualche ERP, o gestione, in cui dovremmo connetterci, scrivetemi pure, siamo super aperti, a fare un bordo di nuove tecnologie, di solito questo avvengo, in soli due, tre settimane. Un case study, che sta andando molto, diciamo, molto forte, di una nuova azienda, che ha scelto la nostra lezione B2B, è l'Unit Aquagroup, una vendita comunque di soluzioni, più di piscina. In questo caso, il, recentemente, Aquagroup aveva comunque un legacy, aveva tantissimi problemi, con un portale member-only, ha scelto BigCommerce, proprio perché erano così facili da gestire. Lo stesso tempo è comunque flessibile, quindi siamo riusciti comunque a configurare tutti i loro bisogni unici. Infatti, comunque, ci ha scelto anche per la soluzione, infatti, ci ha scelto comunque per gli ordini, comunque la ricerca era molto più intuitiva, inoltre da tutto connesso tramite ERP. Quindi, in questo caso, ha migliorato, l'Aquagroup, ha migliorato, diciamo, in maniera molto elevata, la customer experience, inoltre, ha pagamenti e ordini attraverso un quickpad, è tutto sincronizzato tramite ERP. Vi manderò comunque dopo la colla anche il Chessadi, il sito che potete leggere e comunque valutare di persona. Quindi, uno dei scenari B2B che vediamo molto spesso, in cui spesso la nostra pipeline è costituita, per i nostri clienti che vengono a BigCommerce, sono solitamente tre. C'è un B2C, un merchant B2C che vuole comunque ampliarsi i nuovi canali, solitamente il canale dell'ingrosso, quindi va ibrido, quindi avrà sia B2B sia B2C nella stessa piattaforma, un manufatturiero che comunque vuole andare direct to consumer e scegliere noi a vedere una piattaforma ibrida, oppure un manufatturiero, un distributore che o va online per la prima volta o sta cercando un replatio, quindi una nuova piattaforma che non sia più legacy, sia pressibile, agile, come BigCommerce, quindi è un poor player del B2B. Quindi con i messaggi, comunque con BigCommerce avete la potenza di rifornire il vostro e-commerce B2B e la velocità per modernizzarlo. Quindi dunque sarà l'arma segreta del vostro cliente B2B, del team commerciale del vostro cliente B2B, un customer regione, quindi fluido, senza frizioni, vi dà la possibilità di creare moderne esperienze B2B e inoltre vi permette di vendere molto velocemente. Come sapete il 90% di store BigCommerce va live in meno di tre mesi. Un esempio diciamo molto eclatante è Nokia che è andato live in 15 stati in solo 10 settimane. Ovviamente se cerchete comunque di adottare la soluzione B2B BigCommerce non sarete mai soli. Abbiamo comunque un sandbox disponibile. Dopo la chiamata scrivetemi pure se avete bisogno di un sandbox B2B per scoprirlo da voi e comunque giocarci. Abbiamo una guida all'implementazione per le nostre agenzie. Abbiamo i partner benefit che possiamo condividere con voi, quindi dei deck, dei PDF da poter anche mostrare ai vostri clienti. Abbiamo un training nel nostro partner portal. Inoltre no, se condividete comunque ai vostri clienti e pensate sia un buon fit del BigCom, lo sarete mai soli. Ci sono sempre Irene nella nostra account executive che sarà a puntare di supporto a 360 gradi sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista tecnico insieme anche a James Lee. Ok, passo la parola a James, mi fisco con idea dello schermo. James, è il tuo turno. Andiamo a switchare in inglese adesso. Great. Thank you, Giuseppe. And also, it's great to see so many attendees this morning. It makes me nervous, but it's awesome to have so much so much interest. So we'll walk through a technical demo of the B2B edition. I'll spend a little bit of time in the control panel of BigCommerce in our back end. And then we'll also spend a bit of time taking a look at what the front-end experience will look like. So the themes that come with the B2B edition are really great starting points for sure and offer a lot of flexibility. So just want to confirm, Giuseppe, can you confirm that screen is sharing here? Perfect. Thank you, everyone. So we'll hop right in. So as Giuseppe mentioned, Bundle B2B and the B2B edition, it is a purpose-built application for BigCommerce. So very tightly connected with our APIs. it is exclusive to BC and because of that, it does live within the application section. So when you initially log into your store, you would come to apps and then find the Bundle B2B application right here to be leveraged. So maybe first concept to speak to is that there is the concept of buyer as well as seller side roles and permissions. So very quickly as we're thinking about the seller side, user roles and permissions, you may have administrators or store owners or even sales staff that are able to perform different tasks based on the permissions that they have been given. So as an example, when we think about roles and permissions, you know, maybe they have the ability to view, edit, or create quotes for very specific companies that they support as a sales rep. They may not be able to view orders or potentially even see administrators or manage the users that are from the buyer's perspective. So I did want to highlight just initially that as we look at companies or as we look at generating quotes on behalf of our buyers or orders or even invoices, that you are able to define the internal sales role and what they may see. So I think it's a big optimization from the user perspective and usability perspective on making sure that if I, James, log in, that I'm only seeing the companies that I may be directly responsible for. So speaking of companies, when we hop in, this would be a primary view of of all of the companies that you have relationships with or wholesale groups that you have relationships with. If we did mention that there's the kind of approval process, so to touch on that a little bit more, if we think about big commerce natively, we do have obviously the concept of customers that can become official customers versus just guest shoppers. And all we really need there is their name, and email address, but there's no real approval process behind that application. They just get to sign up and they're considered a customer. This functionality, you can see status is approved. If someone had applied and they were not yet approved, you would see pending as the status of that account. And you can also customize that sign-up form. so if the merchant that you're working with or brand you're working with needs to capture unique details on sign-up about those companies, something that's maybe unique to their business, you would be able to customize that sign-up form and then also have a process for reviewing and approving said applications versus automatically accepting the application to be a wholesaler or have that account created. If we click in to look at and manage one of the companies here, here on Bob's furniture, the basic information is what's set and predominantly what would be filled out in the initial application to become a wholesaler. It's also worth noting that you are able to extend this data model, so the data model of the company, in the same way that you can extend the data model of products or orders or carts in big commerce or even users. So you can add meta fields or custom attributes at the company level. As an example, you may have a B2B or wholesale relationship where that particular wholesaler or company is tax-exempt. So you could store that tax-exempt status against the company and then have that affect or alter the behavior of the checkout experience based on those details. Company users would be located here. Again, with bundle B2B, an extension of our native customer group functionality is the understanding of hierarchies within that customer group with different user roles and permissions. So you can define and set administrators, senior buyers and junior buyers, each of which may have similar to the sales staff permission, different permissions of their own. So as an example, your administrator may be able to independently add additional additional colleagues as buyers. So you wouldn't need to have the merchant or the big commerce merchant wouldn't need to necessarily manage the full user group from every company that they do business with. And from that perspective, your junior buyer potentially could only create the shared shopping lists, but they do not have the authority to fully process or check out and process payments. Maybe they also don't have the ability to alter the address book or change payment methods. They're only able to select from a drop-down of pre-approved methods for their particular company. An additional role that is maybe supersedes just the standard administrator would be a super administrator and super admins have a one-to-many relationship with companies. So if you think about the standard company roles, this admin here, maybe Andrew Todd, would only have administrative rights over Bob's furniture, but there are roles known as super admins that could be associated with multiple companies. So if you ever have a scenario where there is more of a, I would say, umbrella company that is maybe managing any number of individual wholesale accounts, you could have a single user login from the buyer side there that would be able to manage payment methods and address books and users from multiple companies. Payment method visibility control is a great feature as as well. This can save a tremendous amount of time from the custom development perspective, but essentially any payment option that is available at the store level. So if we think about the Big Commerce instance as a whole, if that payment method is available or defined, it will populate right here to be able to simply click on which should be available for this particular wholesale account. So what that means is that in their checkout process, anybody who's logging in under Bob's furniture perhaps would only be able to play with a credit card or via PayPal or via purchase order. And simply selecting and clicking save actually modifies and customizes that checkout experience for, again, anybody that would be checking out as part of Bob's furniture. finally, the shared address book here is a great feature for being able to set default billing and shipping addresses at the company level. So this is another extension of our native functionality. Obviously, with Big Commerce, their billing and shipping information is stored against the individual user, this pulls that back and stores it against the company itself. So it's almost as if that customer group is a traditional user. but you're able to store multiple billing and shipping addresses. And again, what this does is based on permission of that buyer or the person that's shopping, they would either have the ability to potentially override that address and enter custom fields or rather alter that address. But your standard buyer may only be able to select from a dropdown. So the billing address would be automatically applied and then they would be able to choose from potentially a handful of pre-approved addresses to ship the purchase to. Now to quickly hop over and think about quotes. This again is a great feature. So something that comes with the B2B edition would be the ability to generate quotes but also request a quote. So I'll show you what the buyer side flow looks like here in a moment when we hop into the front end experience. But this would be how your standard sales representative would be creating a quote that would be sent to their buyer. So very quickly they could come to create a quote. They would select from this dropdown the company that they would like to generate this quote for. You'll see the address book is automatically filled out with their default address information. Then they would be able to select which user from that particular company they would like to generate this quote for. And you could go ahead and save that. You're also able to choose the transacting currency of the quote. so you know again a feature that is native to big commerce is multi-currency support. So you could have very distinct price points for your products in euro versus British pounds if you happen to be doing cross-border selling or even US dollar. You could have a very distinct price point. And as part of that when you're generating a quote the sales rep would be able to determine which currency should be reflected in the creation of this quote. From there adding products is fairly straightforward. So you would be able to search by product name or just skew to add these products to the quote. You know as we add here they're actually injected in light items below. But if we were to come and do you know even for instance a complex product your options that would be selectable would happen here. So maybe we'll take the red with a matte finish and we can add that to the quote here. And as we see these line items are getting added. Once they're here something to highlight these are referencing price lists that have already been defined. So if you have unique pricing for every customer or unique pricing for each of the companies that would automatically be referenced and displayed here. But the sales rep would also have the ability to override prices. So potentially maybe because they're buying 100 here they agreed that they would give them $470 per unit for this particular purchase. Maybe if they're doing $150 here they would actually drop the price to $329 per unit. So you can override the price and have the quote generated. You could also choose in the moment to either calculate for shipping and tax based on the default shipping address or you could even edit shipping information as well to choose a different or have it be generated as a quote without including tax and shipping. Lastly here you do have some additional fields that could be leveraged for adding additional information. So it could be either entering notes so thank you shipping and tax are going to be calculated during your checkout there or even entering specific terms for the customer so any unique terms and conditions that you would like to be applied to the quote can happen here and finally there are messages that can be attached to these quotes so I'll show you again what that looks like in the front end experience but you can see and communicate back and forth between the buyer and the seller specific to this quote you know hey James here's the quote we talked about you know I gave you the 3% off that we had discussed over the phone or the 3% off that we talked about the last time you can also preview to see what this quote is going to look like add as an example company logo very easily to the quote form and when you click publish that's actually going to send this quote out to the buyer order views are fairly self explanatory so similar to you know the view that you would have within big commerce itself there is a b2b edition view here one benefit is that as I mentioned earlier you could have this view restricted to you know just the orders that would be applicable to that individual sales rep so perhaps they don't see all of the orders that are coming in to the store they would only see orders that are coming from accounts that they directly support if that scenario exists right to the order that's within the native control panel so it's really a quick view or quick links essentially to find that order versus needing to come to the standard all orders screen here and search for the appropriate one it also supports b2b edition invoicing so if you wanted to have invoicing through credit card payments or potentially purchase orders etc those orders and payments could be managed here if we go and look at the view of these particular invoices you can see when they are due the amounts that are due to be paid and generate these on behalf of the buyer I'll show you also what this looks like from the buyer's perspective but this allows for those invoice or partial payments towards a running total so if you'd like to have that set up it's available to you and to that merchant so I think now we'll pivot from the back end functionality there to share a little bit about what the front end user experience looks like to start before just before we do that you know as Giuseppe mentioned the B2B edition does come with six B2B optimized themes and those themes are located actually within the app you'll see B2B edition themes that you could add to the store they are for sale also I mean just generally speaking you could purchase them out of the marketplace but they do come with the B2B edition so they're all available to you free of charge I would highlight that similar to a D2C implementation you maintain all of the customization or customizability that exists with a standard deployment so you can fully download these B2B themes make changes to the code similarly checkout can be customized so you're not losing much of any of the flexibility that you would typically find with a D2C implementation with big commerce and you also still maintain the ability to go headless so if you need to do a headless implementation you can do that as well though I feel as I walk through and show some of the views it would be maybe a lot of work so unless there's a very specific reason to go headless I'd highly recommend taking a look at some of these native themes and working within our natively hosted stencil environment so when we hop over to the storefront itself this is our B2B demo store and one of the first things that you'll notice is that it's very much set up as a traditional buying experience so this is one of those hybrid scenarios where it is a B2C as well as a B2B storefront and so when you hop on and are taking a look at products that experience would be very much as if you're just a standard retail shopper pricing obviously if you're connected logged in would be unique to your particular company but one of the main things that changes is that you'll notice there's an add to cart button there's also an add to quote button here so as we discussed earlier you know with generating quotes on behalf of the buyer you can from the buyer side to add these products so if I were to maybe take a quantity let's add maybe 150 we can add this to quote that would be added to my quote and then if I wanted to view the status of my quote there's a modal that can pop out from the side here so if I wanted to fully request this I could give my contact information select the address that I would like this associated with and then below you'd see the SKUs that you'd added to this particular quote now once I could maybe enter a message here to say hey please feel free to provide any customized pricing or can you help me out on these I'm buying a large number or whatever the case may be to have that back and forth and submit and what that does is actually generates a quote that would arrive within the back end control panel for the sales representative to take a look at and either confirm or to manage from there also the quick order pad if you look in the top right hand corner here another feature and this is really around just ease of purchasability so making it as simple as possible and as frictionless as possible to make purchases within the platform so you have a few options one would be to drag a CSV file into the window here with just the SKU and quantity numbers to very quickly create an order alternatively if you happen to know the SKUs you can search for them here and be able to quickly add SKU and quantity to add those to a cart if you need more than five very simple to continue to add rows here to have additional products added to a quote or rather to the cart so a big piece of functionality beyond those kind of aesthetics that you'll see is really around the account page itself so as we're here on this quick order pad you'll see that there's a whole list of different features and functionalities and these come with every big commerce B2B theme so from an orders perspective again you would be able to log in and see all of the orders that have been placed previously so anything that may be you know previously set up here and actually let me hop in to make sure that we're showing what those look like but you also even maintain I would say you know your standard feature to log in as someone so if I wanted to log in as this user we'll come to the store here here we go from the order perspective you would see any existing orders that are on the platform invoices similarly would be displayed so if you have an invoice that's outstanding or ready to be paid you could come in and view or pay that invoice if you wanted to view that invoice it would be rendered here looks like this particular invoice has passed due so shame on me but could come in and very quickly go to pay now and essentially what this does is push you into that card experience so you could pay the entire amount or some portion of this total to pay towards and make sure that the balance is within the realm of what's reasonable so once you've made that decision to which amount you would like to pay and which invoice you would like to pay you could go and go to pay with big commerce and essentially what that does is send you into the checkout experience but as opposed to a product in your cart you're paying towards that invoice that has been generated you also have some nice features just that are very similar to what you would have with a standard shopping experience from recently viewed to shopping lists and addresses these are all I would say relatively standard features but what's different here is that they're being applied at the company level versus that individual shopper so what that allows for that individual buyer so what that allows for your shared buyers lists here to have any number of colleagues contribute to the same order and then go from that shopping list to actually if we come in and take a look here we could go from this particular shopping list of products that are all set up here and go ahead and check out and add these to a list or potentially even add them directly to a card so here's our add to cart function down here that we can take each of these products and add to cart we'll select all add to cart and now these items are actually in the cart and ready to be purchased maybe one last piece here to share from a buy it again functionality again this is going to be similar to what you would find within the orders but this is a skew by skew historically purchased products that are all line item out so if you do have a scenario where the wholesaler is very regularly repurchasing a individual skew it can be very easy for them to come here to the buy again page see the quantity and add another 150 of these canopy beds we're selling a lot of these during this demo but add another 150 of this particular product to my cart or to a shopping list from the user management perspective as well again admins or super admins can manage add delete new users so if you wanted to do this to add an additional colleague and you had the permissions to do so it's just this simple to add additional individuals and colleagues to the store to be able to make purchases I think maybe the very last thing to share would be around the shared address book management as well again all of these views are dependent on the user permission sets so this happens to be a super admin so I'm able to edit or change these you may depending on your permissions only be able to view them so here we have the shared addresses these would be what's available to this group of buyers if they are shopping and they don't have the permissions to maybe choose their own shipping address and you could also add when you're creating these a label so then it's very easy for them to say headquarters or this is our southeast location or store 256 if there are regional stores that you're shipping products to so I hope that was helpful as a high level overview of the B2B edition again it was great to see so many participants today and I'm very much looking forward to what I hope will be follow up discussions with each of you about either the B2B edition or even Big Commerce generally speaking would be more than happy to have demonstrations that are specific to your team to answer any questions that you may have and just very much looking forward to working with everyone thank you very much James guys if you have James can you see the tab I did not see it but let me yes I see this one okay so approval I see approval process for workflow and orders or payments not natively is there an approval process now there would be the permission set so can someone create an order based off of their seniority but if it's for actually approving that payment not not officially what happens after the first quote request it is so it is possible to manage and negotiate so essentially when that quote is sent if you'll recall and maybe it can actually go back to let me share my screen again so you can see but when you are generating that quote let's say the buyer has requested a quote within the application here there would be a notification of the quote that would arrive so here's a new quote come in and view and see the products that were requested they can download print and this is for both the buyer and seller side but you could also edit this so as an example say oh you know James you told me that you were going to give me 5% off here I don't see it you could come in and edit those quantities or edit that price point after the initial quotas generated so there are ways oh so sorry the question is there a way to define products that are sold by square meter or by weight so maybe kind of fractional inventories we do have a way to define those within big commerce it does take a little finessing and customization around how those products are instantiated but I would be more than happy to have a discussion about that to understand one a little bit more but if you have a particular use case in mind and how we may go about solving that sure so another question here would be around can we share some words regarding company and sales representative exclusives or exclusive assignations so essentially what you would have is your sales staff that could be created when you're in the sales staff this is where you would say company assignment so by default you could say that they're assigned maybe they're select all maybe they would have access to all companies so very quickly for this particular sales rep I could say maybe they also have RCBC supplies and save and very simply because I'm an admin logged in right now I'm able to do that but what would happen for that user is now if Jared logs in if he's looking at quotes or looking at companies view Jared would only see the four companies that he's been added to was that helpful and I guess for for each of those questions please let me know if okay perfect thank you obviously it's difficult to include everything in an hour of demo so we are always super disponible to make the demo dedicated to your company to your to your client so after this call I suggest to think to if your client or your prospect could be ad to our solution B2B we are disponible to support commercial and technical you have my whatsapp you have my email you have access to partner port and I will send you lead and send you free and you have contact me for any opportunity commercial I will send you James come on show yourself let's make I'm so sorry I turned it off at the beginning and forgot to put it back on for LinkedIn for our I'll let you get the screenshot there okay screenshot took quindi ragazzi grazie mille per la partecipazione vi restituisco tre minuti il vostro tempo per qualsiasi domanda qualsiasi altro dubbio qualsiasi altro demo un po' più dedicata a voi scrivetemi pure sia io che James siamo a vostra esposizione quindi grazie mille ragazzi see you soon ciao ciao